Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per martedì 1 ottobre. L'anticiclone dell'Azorre inizia a lasciare l'Italia per l'arrivo di una perturbazione atlantica alla fine appunto di martedì. Cosa avverrà bene? Alla fine di martedì piogge sparsi appunto dalla sera sulle Alpi, il Triveneto, Levanti e Ligure, temperature massime intorno a 20-24 gradi al nord e regioni tireniche, 23-27 sul resto del sud e isole maggiori.